residenti e tecnici continuano a segnalare i problemi e la cattiva gestione del fiume velino di qui l'interrogazione del parlamentare Oreste Pastorelli ho presentato un'interrogazione ai ministri dell'ambiente e delle infrastrutture ha dichiarato per chiedere degli interventi urgenti per la messa in sicurezza del fiume velino che in caso di maltempo potrebbe esondare provocando ingenti danni al territorio secondo gli esperti infatti si è arrivati al punto che un semplice evento meteorico potrebbe portare gli argini a cedere ed il corso d'acqua a debordare nella piana di San Vittorino dove sono presenti abitazioni e terreni agricoli potenzialmente il fiume esondato potrebbe arrivare fino alla salaria lo fermo Oreste Pastorelli, deputato del PSI e componente della Commissione Ambiente della Camera D'altro canto ha proseguito il parlamentare socialista nel corso degli anni la città e la provincia di Rieti hanno già conosciuto le emergenze relative alle inondazioni e allora quanto mai urgente al fine di salvaguardare la popolazione non solo il contenimento del rischio immediato ma soprattutto la messa in sicurezza delle sponde del velino per tutto il tratto urbano attraverso un intervento completo e risolutivo grazie a tutti